Sai cos'è vedere questo progetto che a zero citture, insieme alle cambienze e a FSC, ha voluto implementare a livello nazionale per mettere insieme le esigenze dei territori che vogliono investire in resilienza del proprio territorio quello nella capacità del territorio di in qualche modo resistere ai cambiamenti climatici che sono già in atto tramite la piastruzione e la messa di mora corretta di territorio umano quindi sia questo sia anche investire nelle investimenti di aree extraurbane ed è in vera e propria infrastrutture per difendere il territorio e per aumentare la qualità della vita anche dei cittadini da una parte c'è questa esigenza e dall'altra parte c'è l'esigenza delle aziende che vogliono investire in responsabilità sociale in un paese vogliono uscire dalla logica del suo valutato e del suo business e restituire ai territori e condividere con i territori i benefici della loro per il loro essere benvenuti e quindi vogliono investire in questi progetti e poi 0.02 tramite il progetto del governo e mette insieme queste realtà le aziende che vogliono investire e i territori che hanno bisogno di supporto per poter realizzare queste investimenti